buonasera medica guarda il dottore c'ho un male da due tre settimane e non so più come fare di male eh guarda fa male qui e qui il gruppo uno passo e lui mi riesce fa più nulla si volti si volti dica 33 33 trentini trentini andarono a trento andarono a trento 333 trotterla tutti e 33 trento secondo me un malaccio un malaccio ma c'è tipo di volaccio ma c'è di proprio parlato la vita un po gialla anche un po gialla mi va bene di stomaco ma più o meno sia più o meno può essere tante cose più o meno ma guardi più o meno può essere tante cose si sa se bevi il date magari e mi si scioglie un po' il corpo ma l'ha detto poco l'ha detto poco come? questo può essere può essere gastrite può essere pulite spesso un malaccio può essere tante cose oggi tu ci sei domani tu ci sei no no dottore ma o che è possibile davvero possibile io sono allora lei ha studiato? no 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 io si quindi la sua parola contro la mia se le dico a lei è un malaccio ha un malaccio grazie a tutti